Cioè, ha una... Ha dei requisiti particolari Ok, rimarrò con le granate Perché, perché non? Questa, ragazzi, è la prima partita che facciano sul piave Dal fronte tedesco, quindi Vedremo tutte e due le prospettive Eroic Charge O Suicide Charge Una delle cose Eroic Charge Oh, giacca! Oh, giacca! Oh! 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 Ok, giacca! Attimo lavoro! Puntiamo alla B? Puntiamo alla B? Questo è che è che ora non ci! Ander! Ero! 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 Ero, tranquillo! Ero! no 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 mamma con veramente sei venuto qui e smitragliato a minchia sei morto come un ridicolo qui non che lo posso abbesimare con la metriatrice fa veramente schifo al cazzo anche perchè è molto penalizzato solo perché quel mondo di metriatrice all'opera fatto sostanzialmente per esser usato da piazzato con l'ordine qualcosa con l'ordine la stampellina mi ricorderò il nome tecnico ma avete capito giusto con il tedesco posso ricaricare anche qualcosa che avistello Merda Evil Monkey Vecca di questa Figlio di Protono un po' del cazzo L'ho fatta bene in tempo per prendermi la conquista perché mi serve troppo Questa ne devo fare altre 10 Au Detti cecchinata Col moschetto poi Mica male Sta parte un po' stramba perché avevi i punti di spawn dietro l'obiettivo B Veramente assurdo Che da qui non si possa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mandateli all'inferno Wir erobern Fuck Grazie a tutti 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 Ci sono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti